Che lei ci aiuti in questo cammino. Padre nostro, che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, che non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal valore. Fate il mondo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.